La norma vale nel decreto crescita? Deve andare nel decreto crescita, così come devono andarci tante altre norme per sbloccare i cantieri. Ecco, io spero che non ci sia qualche ministro che rallenta. Bisogna completare tutte le opere ferme. Penso all'alta velocità da nord a sud, penso alle autostrade, penso ai tunnel, ai porti, agli aeroporti. Non è più tempo di perdere tempo. L'Italia ha bisogno di lavorare, di crescere, di viaggiare in fretta e spero che non ci sia nessun ministro che rallenti su questo. In CDM venerdì decreto crescita e per i truffati delle banche? Me lo aspetto. E secondo lei TRI ha responsabilità in questo? A me interessa che arrivi, poi chi fa cosa mi interessa poco, a me interessano i risultati.